Questo è un libro che è frutto di una raccolta di esperienze, di grande studio e documentazione riguardo a un problema che io riscontro nella vita di tutti i giorni, nella mia professione, con i miei alunni e con i giovani di oggi, cioè i problemi della rete, legati alla rete. Questa è una raccolta di 45 pagine di diario, di 45 ragazzi diversi che sono state vittime di bullismo, di cyberbullismo oppure di pericoli della rete. Questo è un problema che noi che lavoriamo nel mondo della scuola, lavoriamo con i giovani, vediamo tutti i giorni e anche come genitori siamo impegnati ad affrontare problematiche per i nostri figli di questo. Quindi questo libro nasce dall'esigenza di raccontare soprattutto ai genitori quelli che sono i pericoli o le problematiche che i ragazzi affrontano a contatto con la rete, con la tecnologia, i pericoli che corrono e se noi li conosciamo siamo più incentivati o più preparati ad affrontare queste problematiche e a risolverle con i nostri figli, con i nostri ragazzi, con le nostre future generazioni. Questo libro è anche frutto di numerosi incontri che io ho fatto con i genitori o nelle scuole per affrontare questa tematica e quindi ho voluto mettere tutto in opera in una pubblicazione, in un libro che spero sarà oggetto di confronto all'interno di scuole, associazioni e con tanti genitori e alunni. C'è anche la prefazione di Marco Lanzi che va a rafforzare comunque l'attenzione anche di un mondo, quello delle forze dell'ordine, che inevitabilmente si lega a questa tematica. Esatto, la prefazione di Marco Lanzi che ringrazio e di cui sono onorato rappresenta proprio questa collaborazione che io e lui attraverso la Polizia di Stato abbiamo fatto per affrontare al meglio e conoscere al meglio queste tematiche e anche vedere e spiegare ai genitori che queste problematiche possono essere risolte se si usano gli strumenti giusti e i canali giusti.